Giornalista, storico, ma soprattutto uomo delle istituzioni. Tutto questo è stato Giovanni Spadolini, il primo presidente del Consiglio Laico del Dopoguerra e il politico che decise di creare nel 1974 il Ministero dei Beni Culturali. A lui, nato a Firenze nel 1925 e morto a Roma 69 anni più tardi, è dedicata la mostra, allestita fino a fine febbraio, nella sede dell'ente Cassa di Risparmio di Firenze. Un'occasione per scoprire tratti nascosti di una figura poliedrica. Dalla sua passione sfrenata per l'arma dei carabinieri all'innata autoeronia che lo rendeva capace di accogliere con un sorriso anche la satira più irriverente. Un uomo di Stato eccellente nel tessere relazioni con i grandi del suo tempo grazie a una cultura umanistica di alto livello. Un uomo devoto al partito e al paese, i cui insegnamenti, come ha sottolineato il professor Cosimo Cecuti, curatore della mostra, sono ancora attuali. Il senso dello Stato, l'interesse generale al di sopra dell'interesse particolare degli stessi partiti. Lui era segretario del partito repubblicano mentre era Presidente del Consiglio. E la sua grande gioia è che in Italia nessuno sapeva che era segretario di un partito del 3%, ma sapevano che era il capo del governo. E questo lo riempiva di grande soddisfazione. Spadolini, appassionato bibliofilo, al punto che gli è stata intitolata la Biblioteca del Senato, pur essendo fiorentino o doc, detestava chi si esprimeva in vernacolo ostentando il proprio provincialismo. Una caratteristica rimarcata dal presidente dell'ente cassa, Umberto Tombari. Questo suo richiamare una Firenze europeista, una Firenze aperta, una Firenze non provinciale, non la Firenzina che in certi momenti invece riappare. Non è un caso, dunque, se al centro della mostra allestita a Firenze ci sia la sezione dedicata ai ricordi collezionati da Spadolini nel corso dei suoi viaggi ufficiali in Mezzomondo, come questo Kalashnikov donatogli dal ministro della difesa dell'Arabia Saudita nel 1986.